Carissimi telespettatori, buona serata agli amici del Tg del venerdì. Ricordo domenica prossima, 13 giugno, oltre a augurare Sant'Antonio, auguri a quanti si chiamano Antonio, la nostra trasmissione itineraria dello Spirito 1910, che seguirà un tema molto interessante, una riflessione di Papa Francesco ai nuovi preti, quelli che sono stati ordinati proprio in questi giorni, anche nella nostra diocesi di Milano, proprio per indicare il valore del dono, il servizio alle persone. Quindi ci aspettiamo domenica prossima, ore 19.10, itinerari dello Spirito. Buona serata, buon ascolto dei nostri programmi.